Ci sono anche set cinematografici in via d'allestimento nel 2024, anno di Pesaro, capitale della cultura. Quelli che verranno apparecchiati in location come Villa Severi o della Chiara Workspaces per la realizzazione di Mr. Hope, cortometraggio pelota che potrebbe anche germogliare in una miniserie o in un lungometraggio. Ad essere presentato oggi in comune è un film interamente made in Pesaro, dai set alla casa di produzione, la LG Studios è supportata dall'imprenditore Mirko Bannini fino al regista 23enne Tommaso D'Andrea. Il tutto con il coinvolgimento degli studenti del liceo artistico Mengaroni. Posso dire che è un genere distopico, di una Pesaro vista di qualche anno nel futuro, quindi pensiamo in un 2039-2040 e diciamo che i toni saranno abbastanza cupi. Gli argomenti trattati sono la libertà del giornalismo e dell'informazione. Il cinema è sempre un bel modo di raccontare la città, di raccontare il territorio, tra l'altro questa produzione di LG Studios verrà realizzata completamente a Pesaro con attori scelti ovviamente in tutta Italia, c'è stato un casting già con tantissime adesioni ma racconterà un futuro distopico ma abbiantato nella nostra città. Abbiamo cercato di avere più curriculum possibili, sono arrivate circa 240 mail candidature di attori più o meno da tutta Italia e abbiamo fatto un grosso lavoro di selezione, più selezioni, cercando di selezionare prima quello che poteva essere più interessante dal punto di vista estetico dei personaggi che ci interessavano e poi abbiamo richiesto dei self tape su ruolo, su parte per poter verificare chi poteva essere più meritevole o più indicato per svolgere un ruolo. Poi abbiamo fatto dei casting in sede che stiamo ancora facendo gli ultimi casting. Nel progetto c'è anche il liceo artistico Mengaroni di Pesaro che i ragazzi che abbiamo coinvolto sono una quinta e hanno un coinvolgimento sulla preproduzione ovvero sulla preparazione degli storyboard che ovviamente faranno insieme a noi perché poi sullo storyboard stiamo preparando la regia e di conseguenza ci sarà tutto lo sviluppo di tutto lo short e anche un'eventuale partecipazione dei ragazzi più grandi ovviamente che si hanno compiuto i 18 anni faranno dei casting interni per le eventuali comparse.